Quelli che sono rimasti a casa spero che facciano le pulizie e iniziano a darsi da fare. Lo facciamo un brindisi anche per loro? Sì, dai. Alla casa pulita. Alla casa pulita. No, ragazzi, ci fanno pulizie. Buongiorno, buste pagavuote. Oggi è giorno di pulizie, ma se volete riposarvi potete farlo. Spendendo mille euro per un'impresa di pulizia. Pensateci due minuti.